Qual è per te l'importanza dell'istruzione artistica a Calderi? Sicuramente l'importanza che c'è in tutte le altre città o all'interno di qualunque comunità, l'importanza di poter dare alla città una sensibilità che è quella che solo le arti in generale possono offrire a un cittadino per avere una consapevolezza su quello che è il territorio, il luogo in cui vive è come poterlo migliorare sicuramente, è la possibilità di non racchiudere le forme artistiche all'interno di una bolla di vetro ma di poterle vivere e respirare in modo da poter appunto avere una consapevolezza. Spesso l'arte noi la vediamo racchiusa all'interno di luoghi di architetture, luoghi difficilmente accessibili spesso costosi soprattutto e questo fa sì che si veda l'arte o comunque le arti in genere come un qualcosa di lontano che non sono vicine essenzialmente. La possibilità di avere una cultura artistica crea la consapevolezza nel cittadino che l'arte è un qualcosa che tu rispidi quotidianamente e che ti dà degli ottimi strumenti per affrontare e vivere il quotidiano e offrirlo a chi verrà successivamente. Grazie.